Ciao a tutti, io sono Oscar Farinetti. Perché sono molto importanti le relazioni tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia? Perché sono due relazioni che sono campioni, campioni ciascuno nel proprio campo. Gli Stati Uniti d'America hanno il primato del mondo digitale, del nuovo linguaggio, sono la più grande potenza militare e politica del mondo, sono la più bella e sana democrazia del mondo. L'Italia è il paese col primato della biodiversità, della bellezza, dell'ago elementare, del fashion, dei mobili, dell'arte. È una terra magnifica perché negli Stati Uniti c'è un sacco di italiani, di persone provenienti da famiglie italiane che vivono lì e hanno contagiato tutto il resto d'America. E poi, per un motivo assolutamente personale, per noi gli Stati Uniti d'America con Italy sono un mercato domestico. Abbiamo sette grandi luoghi di vendita, ne apriremo altri, ci troviamo da Dio. Italy usa, è enorme, è molto importante. Quindi, viva gli Stati Uniti d'America, viva, viva l'Italia, viva la democrazia tra i nostri due paesi. Ciao!